Siamo alla presentazione del progetto Milano c'è da fare, una piattaforma condivisa tra tutti i player del territorio, lanciata su iniziativa di Asimpre di Lancia. Ci può dire qual è il ruolo dell'Ordine degli Architetti all'interno del progetto lanciato oggi? C'è Milano da fare? Sì, dunque noi insieme anche all'Ordine degli Ingegneri e all'Ordine dei Geometri siamo quei portatori dell'interesse pubblico nei confronti dei cittadini del costruito e della rigenerazione urbana. Abbiamo colto con molto favore l'invito da parte di Asimpre di Lancia a costruire un tavolo unitario che contemperasse gli interessi di tutti gli elementi della filiera dai costruttori alle cooperative agli ordini come noi per cercare di contribuire con una vision e anche con un tavolo di lavoro ai candidati sindaci per muoverci in modo unitario per portare il nostro contributo. Il vostro contributo si inserisce all'interno di questa nuova piattaforma, quindi ci sarà una collaborazione tra tutti i soggetti immagino? Sì, la collaborazione è già iniziata. Da quando è nato questo tavolo ci saremmo visti almeno 5-6 volte. È nato in modo spontaneo ma in modo molto fattivo. Tra i vari soggetti ci siamo trovati ad avere in realtà moltissimi punti in comune nel promuovere la città di Milano come luogo di sperimentazione nel rapporto pubblico-privato anche da proporre all'amministrazione. In parte è un lavoro che è già stato fatto molto bene nel quinquennio precedente ma che va ulteriormente sviluppato sia nei confronti delle regole da rendere il più flessibili e utili possibile per far sì che ci sia un deciso rilancio in un momento in cui finalmente la crisi appare finita e ci sono timidi segnali di cambiamento ma anche grossi investimenti che stanno arrivando soprattutto da investitori esteri che vedono nella farraginosità e nella lentezza dei nostri meccanismi burocratici uno dei deterrenti agli investimenti. Dato che c'è già in atto questa buona collaborazione vogliamo proporci come soggetto unico per cercare di smuovere e di cambiare marcia in questa collaborazione ma anche di proporre i nostri know-how mescolati nel proprio essere propositivi anche rispetto ai contenuti di rigenerazione urbana, di rigenerazione del costruito, dello spazio pubblico, delle periferie, social housing e tantissime altre cose ponendoci al servizio della città. Grazie a tutti.